Vogliamo davvero incontrare il sovrano in questo stato? Alt! D'accordo, potete entrare. Ma l'orso deve rimanere fuori. Va tutto bene, piccolo. Torniamo subito. Lady Kima, è vitale che Lord Lady Briarwood si uniscano a noi. Sire, non riceviamo notizie da Whitestone da mesi e il nostro messo non è mai tornato. Dobbiamo avvisarli di questi attacchi. Mandate subito un'altra guardia reale. Scusate, voi chi diavolo siete? Vox Machina. Vedete, si tratta di un gioco di parole piuttosto orgoglioso. Onestamente non ci interessa, Sire. Vi avevo avvisato che quei manifesti avrebbero richiamato la feccia di Emon. Come, scusate? Sir Finn si intende dire che un nemico così letale richiede gente più esperta. Krieg, non perdete tempo con questi ridicoli ubriaconi. Guardie! Ridicoli? Chiaramente non avete mai sentito della leggenda di Vox Machina. Permettetemi di fare una presentazione adeguata. Oh, dai, ci risiamo. Noi siamo i guerrieri migliori. Nessun mai lo smentirà. E vi prometto che nessuno, in nessun modo, ci batterà. Broca è grande e grosso mai, genuo più che mai. E persi con un colpo può centrare chiunque sai. Chi le sa domare la natura intorno a noi? Controlla gli animali, le foreste ed anche i fiori. I gemelli Vex e Vax. Lexcock! Lui si nasconde. Feroci e micidiali. Ma che sia non mi confonde. Lui è Vax. Lei è Vax. Con le mani pikes a guarire tutti sì. E non vi ha detto di un orso, ma non dà problemi qui. Parliamo di me. Io sono Scanna. La mia arma è la mia mano. Sono il migliore. Nulla da dire. Se ti tocco sei finito. Faccio un boccio. Ah, scusate. Impavidi e curiosi nessun mai ci fermerà. A lungo narreranno la leggenda. Di voi. Macchina. Grazie, grazie a tutti. Concedeteci un momento per discutere del vostro curioso gruppo. Non starete considerando di affidargli una missione tanto cruciale. Sovrano, la loro nomea è mediocre. A dir poco. Però hanno un orso. Sembra piuttosto feroce. E la canzone era orecchiabile. Perché non diamo loro una possibilità? Forse questi guerrieri sono più di quel che sembrano. Già. Ne dubito. Chiamiamo di nuovo gli assassini di Agar. A quanto pare qualcuno ha tagliato una mano ad Agar durante una rissa da taverna. Oh, cazzo. Molto bene. Siete assunti, box macchina. Più che altro perché mi piace l'orso. Lady Allura vi accompagnerà a Shale Steps. Il villaggio più vicino all'ultimo attacco. Allora, cosa dovremmo uccidere e quanto ci pagherete? Non sappiamo cosa dovrete uccidere, ma una volta morto, tutto questo sarà vostro. Ancora una domanda. Ecco, come ci arriviamo laggiù? Fratello, sono sicura di averlo sentito. Proprio nella sala del trono. Non succedeva più da... Non è una nave meravigliosa? Di sotto ci sono due bagni. Ah, comunque, perché sussurrate come se non vi sentissimo? Puoi farti gli affari tuoi per una volta, gnomo? Come potete vedere, quella creatura ha già distrutto tre villaggi e miglia di campi coltivati. Se continuerà così, gli abitanti del regno moriranno di fame. Questa missione sembra piuttosto pericolosa. Vogliamo farlo davvero? Già, è una missione molto rischiosa. Ed è per questo che solo i guerrieri più valorosi, eroici e dal cuore... Sì, sì, valore d'eroismo e tante belle cose, ma noi siamo qui per i soldi. Capisco. Quindi conio prima della nobiltà d'animo? Non mi sorprende.